Waiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiwaiw Voi Siete mai passati davanti a una scuola elementare dopo l'ora di pranzo ci sta una marea di questi scatole tutte impilate una dopo l'altra e io ogni volta che passavo davanti a scuola mio figlio dicevo ma se scatole a qualcosa possono servire prima di buttarle e così è nato il primo strumento a corde di Bungo e De Bang che si chiama Scatolofon ed è uno strumento che dà delle potenzialità veramente incredibili è fatto semplicemente con un elastico una molla di quelle lì da ufficio e lo scatolo e questo è uno strumento che puoi suonare in 3000 modi perché non solo è una percussione ma è uno strumento armonico che ha degli armonici e in effetti ecco questo per esempio è un armonico poi io ci ho messo dentro questa bacchetta vieni vieni c'è una bacchetta qui dentro che serve per tenere a distanza i bordi della scatola altrimenti si spaccherebbe con la pressione dell'elastico e così mantiene una tensione fissa e può essere intonato esattamente a qualunque nota che vogliate intonarlo in più è uno strumento talmente acido che io ho bisogno di questi occhiali per suonare e quindi Grazie a tutti.